Urlaubspläne Progetti di vacanza Progetti di vacanza Wie fahren wir nach Italien? Come andiamo in Italia? Come andiamo in Italia? Mit dem Zug Con il treno Warum fliehen wir nicht? Perché non prendiamo l'aereo? Perché non prendiamo l'aereo? Es ist schnell, un bequema È più veloce e più comodo È più veloce e più comodo Ich habe Angst zu fliegen O paura di volare O paura di volare Und im Zug Kann ich mich frei bewegen E in treno Mi posso muovere liberamente E in treno Mi posso muovere liberamente Ich verstehe Capisco Capisco Wie du willst Come vuoi Come vuoi Kaufen wir die Farcarten online? Compriamo I Biglietti Online Compriamo i biglietti online? No, preferisco fare i biglietti alla stazione. Adesso non ti capisco. Adesso non ti capisco. Adesso non ti capisco. Perché vuoi andare personalmente allo sportello? Io ho sicuramente molte domande da fare. Avrò sicuramente molte domande da fare. Quest'anno si va a Torino. Quest'anno si va a Torino. Poi proseguiamo per Roma. Poi proseguiamo per Roma. Und vielleicht fahren wir mal kurz auch nach Venedig. E forse facciamo un salto anche a Venezia. E forse facciamo un salto anche a Venezia. Se abbiamo tempo vorrei fare un giro in gondola. Se abbiamo tempo vorrei fare un giro in gondola. Gut. Gute idee. Bene. Buona idea. Bene. Buona idea. Buona idea. Giorno. Giorno. Il primo agosto. Giorno. Giorno. Che giorno è il primo agosto? Giorno. 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 Das ist ein Samstag. È un sabato. È un sabato. a presto